Buona domenica amici di Chef in Cucina, bentornati su Rete8. Come di consueto ogni domenica vi regaliamo una ricetta di pasticceria che oggi sarà realizzata dalla nostra Mariana Oproaia dell'Agriturismo Terra di Solina qui a Capestrano. Ciao Jennifer, buongiorno. Ciao. Tra l'altro quello di oggi è veramente un dolce, non dolce perché è molto particolare, perché è realizzato con i legumi. Sì, con i fagioli aquilani. Con i fagioli aquilani, quindi è veramente una preparazione molto insolita, particolare e anche molto salutare, dai, per essere un dolce. È vero, è vero. Come andiamo sul tema. Ok. Allora, come si chiama? Presenta, ce lo racconta. Allora, si chiama noccio misù. Noccio misù. Perché lo facciamo con una crema di nocciole, poi un biscotto bagnato al caffè e questa crema di fagioli e cioccolato fondente. Quindi praticamente diciamo che un po' gli elementi che ricordano il tiramisù sono presenti. Perché abbiamo comunque il biscotto che si bagna con il caffè. Esatto. Però praticamente il mascarpone non c'è per niente. Non c'è per niente. Che lo andiamo a sostituire con questa crema di nocciole, quindi la parte bianca. E la parte scura è fatta praticamente con i fagioli dell'aquilani, praticamente i fagioli in versione dolce. Quindi una cosa che sinceramente io non avevo mai mangiato prima è che ho assaggiato già, ho dato devo confidare e mi è piaciuto veramente, veramente tanto per la sua particolarità. Perché insomma è un dolce non dolce, non è per niente pesante, ha una consistenza molto leggera e devo dire che a me è piaciuto tanto. Quindi sono contenta di imparare. E' un dolce pensato per dopo pranzo, un dolce buono, leggero, che è molto gustoso. Diciamo che soprattutto quando si mangia fuori, si mangia al ristorante e poi si vogliono assaggiare tante cose. E effettivamente poi per il dolce rimane poco spazio e quindi è importante che comunque il dolce, che è comunque un elemento importante del pranzo, a fine pasto, sia poi come dire calibrato in maniera giusta, quindi non troppo pesante, non troppo carico. E allora, partiamo da questa crema, da questo elemento che è la crema di nocciole. Come si fa? Allora, praticamente è una mousse di nocciole che si prepara con i tuorli d'uovo, con lo zucchero. Ecco, qui abbiamo praticamente scritto la ricetta perché comunque gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono parecchi. Quindi dobbiamo mettere i tuorli. Poi lo zucchero con l'acqua che lo dobbiamo portare a bollizione fino a 121 gradi. Ok. Così pastorizziamo i tuorli e facciamo la crema. Perfetto, quindi praticamente la prima operazione da fare è portare a bollizione a 121 gradi lo zucchero con l'acqua. Dopodiché li versiamo nei tuorli. Versiamo in una planetaria con i tuorli. Con i tuorli. Facciamo lavorare finché si raffreda bene, bene, bene. Ecco, questa è un'operazione importantissima, quella della pastorizzazione delle uova, perché soprattutto quando si mangiano crude è veramente fondamentale per una questione di sicurezza. E poi a queste uova pastorizzate andiamo ad aggiungere cosa? Poi aggiungiamo 300 grammi di panna che lavoriamo con una pasta di nocciole che facciamo noi. Ok, noi abbiamo la tartufaia che coltiviamo anche queste nocciole. Ah ok, che meraviglia. Poi facciamo una pasta di nocciole che è molto semplice. Come si fa? Allora, 300 grammi di nocciole con due cucchiai di zucchero. Ah, quindi molto molto. E' una specie di mortaio che dobbiamo schiacciare, che dobbiamo fare? Sì, anche con un bimbi, con un robot che è abbastanza potente che si frulla e si fa questa pasta di nocciole. Benissimo, benissimo. E la panna che andiamo ad aggiungere invece? La lavoriamo finché è lucida. Ma non la dobbiamo montare? La montiamo poco, deve essere lucida, non deve essere ben montata. Ok, e la andiamo ad aggiungere ai tuorli. E la pasta di nocciole. E la pasta di nocciole. E questa è la nostra crema di nocciole. Noi ci siamo fatti i pizzini oggi. Ok. Andiamo avanti. Perché sono troppi passaggi. E certo. Con la crema di fagioli, che è questa che vedete? Che è molto particolare. E' vero, allora facciamo i fagioli li dobbiamo lessare prima. Ok. Mettiamo in ammollo per 3-4 ore, poi li lessiamo. Li scolliamo bene dall'acqua. I fagioli li facciamo raffreddare. Poi li mettiamo in un robot da cucina così. Li facciamo frullare con il cacao, zucchero e un po' di latte. Ok. Il latte quanto basta per dare la morbidezza. Quindi andiamo a creare una crema, andiamo ad addolcirli con lo zucchero o con un cucchiaio di cacao. Poi ovviamente trovate tutti gli ingredienti a fine puntata in grafica, quindi noi adesso vi spieghiamo a grandi linee, però poi lì avete tutte le dosi per rifare questa ricetta. E poi qui vedo 100 grammi di cioccolato fondente. Sì, cioccolato fondente che lo sciogliamo prima a bagnomaria o al microonde, lo sciogliamo e poi lo aggiungiamo alla crema di fagioli. Alla fine. E abbiamo le nostre creme. Poi abbiamo il biscotto. Il biscotto. Che è molto semplice immagino. Sì, è semplice, è fatto con la farina di solina, uovo, latte, un biscotto semplice. E' un biscotto con un po' di ammoniaca. Poi ecco, vi ripeto, troverete tutti gli ingredienti a fine puntata in grafica, quindi lo potete rifare. Per cui le prime operazioni da fare sono fare questa mousse, questa crema, il biscotto ovviamente è la prima cosa da fare. Poi abbiamo bisogno di un po' di caffè, nocciole tostate. Nocciole per decorare. E possiamo assemblarlo. Sì. Vai Mariana, iniziamo. Allora. Quindi iniziamo con... Iniziamo con la crema di nocciole. Che è veramente così invitante questa crema, Mariana. Grazie. Poi bagniamo. Beh, il caffè non può mancare. È vero. È importantissimo. Per questo dolce... Ma poi io l'ho assaggiato. Se tu non mi avessi detto che era una crema di fagioli, ma chi ci avrebbe mai pensato? Davvero. Aggiungiamo di nuovo la crema. Mettiamo con le nocciole. Con le nocciole. Che sono buonissime. Sì. Aggiungiamo la crema di fagioli. Ma che bella, poi che bella consistenza che ha. Cioè... E poi è molto buona. È buonissima. Piaccia anche ai bambini. Beh, sì. Ok. Adggiungiamo un altro biscottino. Sì. E poi, insomma, veramente un dolce che parla del nostro Abruzzo, del nostro territorio. Perché abbiamo la farina di solina per quanto riguarda il biscotto. Abbiamo le nocciole che sono proprio qui del posto. E abbiamo ovviamente i fagioli protagonisti nella crema. Quindi, insomma, veramente tanta roba. Decoriamo con le nocciole tostate. Wow, che bello. Questo è gustosissimo. Buono, buono, buono. Una fogliolina di menta per dare anche un po' di... Che bello. Ed eccolo qua. Il nostro nocciomisù. 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 Una variante al tiramisù tradizionale. Più leggera. Più leggero. Più proteica. E soprattutto abruzzese. È vero. Fatta proprio con il nostro. Nostro, esatto. Di terra di solina. Mi piace questa cosa perché praticamente la nostra Mariana ha ripreso un dolce della tradizione tipica, ma non so, italiana, ma credo anche mondiale, perché il tiramisù si mangia un po' in tutto il mondo. E l'ha praticamente fatta sua, nostra, abruzzese. L'ho personalizzato con i prodotti che ha detto. Con i prodotti nostri, sì. E i miei complimenti perché insomma il risultato parla da solo, già visivamente, poi al gusto ovviamente è da provare perché è veramente un ottimo dolce, un ottimo dessert da fine passo. Allora, grazie Mariana. Grazie mille. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani, sempre su Rete 8, la prima emittante d'Abruzzo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.